Io darei la parola intanto a Carlo Falcone per ordine alfabetico, candidato per la lista Bastolino per Napoli al Consiglio Comunale. Quindi gli lascio la parola, 4 minuti, dialogo e proposte, questo vogliamo sentire stasera, grazie. Allora buonasera a tutti, grazie dell'invito ad Angelo Colella e Emma Di Lorenzo, grazie di tutto. Una bellissima serata, il posto è molto bello. Io sono candidato al Consiglio Comunale di Napoli, la lista Bastolino per Napoli. Sono il Presidente di Sud, che è l'associazione a cui fa riferimento il Presidente Bastolino, di cui lui è Presidente onorario. Ormai sono tanti anni che insieme stiamo lavorando a livello sia programmatico che culturale per la nostra città di Napoli. Lui il 13 febbraio, il Presidente Bastolino, si è candidato a sindaco, come sapete tutti quanti. E io, il mese di luglio, mi sono candidato come consigliere comunale. I temi mi presento soprattutto. Io sono un ingegnere, vengo dal mondo, sia della libera professione in quanto ingegnere. E poi, avendo un fratello che ha una sofferenza psichica, ho costituito una cooperativa sociale che si chiama Arte, Musica e Caffè e abbiamo una gastronomia sociale autofinanziata, vorrei sottolineare, senza finanziamenti pubblici, al Corso Vittorio Emanuele. Una gastronomia sociale dove è una cooperativa sociale di tipo B, non so se sapete giuridicamente cosa. Praticamente il 30% deve essere una persona con disabilità. E noi siamo a suo corso dal 2008, siamo fronte strada e quindi il tema della salute mentale, della disabilità, dell'inclusione sociale, dell'inserimento lavorativo sono i temi che fanno la cifra della mia vita, oltre alla mia professione. Quindi per tanti anni mi sono battuto per questa inclusione sociale, per l'inserimento lavorativo e per la salute mentale, voglio ripetere, perché è un tema che normalmente non viene, di cui non si parla all'interno delle istituzioni, c'è molti se ne parla, si fanno tante battaglie, però alla fine all'interno delle istituzioni io personalmente, in quanto familiare, non ho mai riscontrato nulla, non si è mai fatto niente di concreto, anche a livello regionale i finanziamenti sono esigui. A livello comunale si fa poco, visto che il sindaco è la massima autorità sanitaria del comune, mi sembrava opportuno, sia politicamente che culturalmente, appoggiare il bastone in questa candidatura e propormi io per queste attività. Lo slogan, diciamo, il motto della mia campagna elettorale è avremo cura. Io intendo avremo cura come noi abbiamo cura delle nostre cose, delle nostre case, perché a Napoli si ha più cura della casa propria che della città, delle strade, dei trasporti. E ovviamente dove non si ha tanta cura, le persone più fragili sono quelle che più ne risentono nei trasporti, anche al camminare per strada, sono le buche e tanti aspetti anche sanitari, i consultori, quindi a mio avviso la cura è la cosa più importante in questo periodo. Infatti il motto è avremo cura. Avremo perché? Dico avremo, perché io penso che le cose si fanno insieme, interloquendo con chi? Normalmente, tecnicamente si dice stakeholder, cioè le persone che soffrono, le persone che hanno la loro disabilità. Secondo me per fare dobbiamo programmare insieme, tutti quanti insieme e io penso che gli operatori, le istituzioni debbano parlare sia con la business community, cioè l'impresa, sia con l'aspetto sociale. E il tavolo deve essere a tre, cioè l'istituzione, il mondo professionale, imprenditoriale e l'aspetto delle persone, l'associazionismo e volontariato e anche le stesse persone che hanno questa disabilità. Questo tipo di economia di cui si parla molto, infatti si chiama economia civile, il massimo pensatore di questa economia civile è in questo momento storico che è Stefano Zamanni, di cui ho fatto riflessione di un libro che ho scritto qualche anno fa, che Stefano Zamanni è il, paradossalmente io vengo da un mondo di sinistra che non cattolico, diciamo così, è il presidente dell'Accademia Pontificia e quindi io, lui abbiamo fatto amicizia perché l'economia civile nasce a Napoli con Genovesi, quindi io inserisco nel mio percorso di vita la parte diciamo più di sinistra, più bassoniana, movimentista, c'è questo aspetto più cattolico diciamo e secondo me l'economia civile in questa epoca in cui il neoliberismo e il neostatalismo non stanno funzionando e sia la cosa più, sia l'economia, l'impostazione metodologica più importante in questo momento. Quindi io finisco, io mi propongo nelle istituzioni per portare queste istanze, quindi la salute mentale, l'economia civile e soprattutto stare insieme all'inclusione sociale. Grazie di tutto.